Ha voglia di polemizzare, qua alle spalle c'è una piscina, ecco io ho un caldo africano, almeno questo, e mi piacebbe fare un bagno antimafia nella piscina confiscata al boss, alla faccia del boss, alla faccia di tutti i boss. Qua ci devono vedere i bimbi, i bimbi, la nostra gente che le vacanze non se le può permettere magari da anni. E permettetemi questo di ricordare che ovviamente le battaglie economiche su cui ci siamo impegnati in campagna elettorale continuano a essere una priorità e saranno una priorità mia e della Lega. Io ovviamente mi occupo di mafia, di immigrazioni, di ordine pubblico e di sicurezza, però a tutte le donne e gli uomini della Lega e dei 5 Stelle al governo l'impegno a cancellare la legge Fornero, a ridurre le tasse con un'aliquota unica, a chiudere le cartelle esattoriali con Equitalia, a cancellare burocrazie, spesometri, redditometri, studi di settore, quindi a rendere più veloce, più snello, più serio, più dignitoso il mondo del lavoro, è un impegno che ci siamo presi. Dateci una mano, stateci vicini, siamo qua da solo un mese, quindi evidentemente non facciamo miracoli, mando un bacione ai rosiconi di sinistra che non sanno più cosa inventarsi, si inventano le polemiche inesistenti sulle atlete di colore che sono un attacco a Salvini, alla Lega, sono mie sorelle, il mio problema sono gli immigrati clandestini, non il colore della pelle. Anzi, vi dirò di più, stamattina ho fatto due passi in giro per Siena per vedermi in questa splendida città e incontrare le persone senza filtri, decine e decine di foto, di abbracci, di commenti, di suggerimenti, di consigli, di strette di mano. Uno dei primi è stato un ragazzo senegalese, qua da anni rispettosamente, che andava in comune, anzi andava in questura a ritirare la sua cittadinanza. Ecco, l'immigrazione positiva, pulita, che porta idee, porta energie, porta rispetto e la benvenuta. Il mio problema sono i delinquenti come quello che stanotte ha ammazzato a Pugni, pensate a Pugni, a Sessa Aurunca, in un ospedale, un immigrato che ha ammazzato a Pugni un 77enne italiano. Come cacchio si fa a morire a 77 anni dopo una vita di lavoro, immagino, in un ospedale italiano, per uso a Pugni da una di queste risorse che ci dovrebbero pagare le pensioni? Perché c'è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell'Inps, ci sarà tanto da cambiare, anche in questi apparati pubblici, parapubblici e parastatali, che dice che senza immigrati è un disastro, non si può toccare la legge Fornero e senza immigrati l'Italia sarebbe un disastro. Come il governatore della Toscana Rossi, uno degli ultimi amministratori di sinistra, rimasta in questa splendida terra verde, ha detto che senza gli immigrati la Toscana sarebbe un deserto di miseria. Ma come fai a dire che senza immigrati la Toscana sarebbe un deserto di miseria? Ma guarda cos'è la Toscana, guarda cosa c'è alle mie spalle, che aspetta solo di essere promossa, valorizzata, tutelata, rilanciata, altro che deserto di miseria.